ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video come avete capito dal titolo oggi faremo un anel art quindi andremo a fare il fiore che è il giglio ed ho già qui preparato l'unghia ho fatto base nera e poi l'ho apacizzata allora come nero di base andiamo a vedere quindi i colori che ci serviranno per creare questo aiuto se gira tutto per quest'anni l'arte ha utilizzato il nero dell'elite questo qui 99 shellac se mi interessa al 40 518 per fare il nero sotto la base poi ci servirà suo papaya fast f47 di passioni unghie se sentite qualche rumore ed è fuori non so cosa stanno a combinare se stanno a tagliare l'erba non so che stanno a fan sono 60 rumoraccio sperando sperando che non sentite nessun rumore così ma sbroadore tutti i più ripulisco messo sbroadore poi ciò con leite che il fast f68 questo marrone un attimo ma pulita ecco cioè meglio poi ci servirà buttercup che il classic c56 che questo qui giallo poi vabbè il bianco il pure white il nero vabbè che utilizzeremo poison black poi silver kiss che lsp 21 che questo semi permanente con grigio metallizzato e questi sono i colori che ci serviranno per fare questa nell'arte vi lascio il video e ci vediamo a fine video come sempre ciao 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 Grazie a tutti. 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 Mi piace veramente moltissimo, è molto molto carino, mi piace. Poi ho messo la micro perla, vedete questo in alto e poi ce n'era un'altra qui però veniva troppo grossolano e ci ho messo il brillantino argentato. Questo qui al giro lo faccio vedere meglio. Non è perfetto che non è perfetto che ancora questi fiori così, non è che sono un mito a farli insomma, però non è malvagio insomma, molto molto carino, mi piace. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, se il video vi è piaciuto, se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!